Ciao, sono Alessandro Biondi, ricercatore della Scuola Sant'Anna e coordinatore della Seasonal School Next Generation Cyber Physical Systems. Siamo circondati da oggetti controllati da computer, treni, aerei, auto, edifici, impianti industriali. Questi computer interagiscono direttamente con il mondo fisico. Ecco perché parliamo di Cyber Physical Systems. Prendiamo ad esempio un'auto del futuro a guida autonoma. Il computer che la controllerà non prenderà delle decisioni che saranno relegate al mondo virtuale, ma prenderà delle decisioni che avranno un impatto ben preciso sul mondo reale, appunto sul mondo fisico. Se questi computer prenderanno delle decisioni sbagliate o verranno ad esempio attaccati da un hacker, potrebbero esserci delle ripercussioni ingenti sui passeggeri, sull'ambiente circostante, ed è per questo che questi sistemi devono essere sicuri, affidabili e predecibili dal punto di vista temporale, ovvero devono sempre rispondere entro un determinato lasso di tempo. Queste proprietà sono molto difficili da garantire per sé, ma lo saranno ancora di più nel futuro a fronte dell'ingente presenza di intelligenza artificiale in questi sistemi, che chiaramente rende tutto molto più difficile e necessita dell'utilizzo di nuove tecnologie e software e nuove metodologie di progettazione per raggiungere questi obiettivi. La Seasonal School fornirà competenze per poter progettare, analizzare e realizzare cyber physical systems che siano sicuri, affidabili e predecibili dal punto di vista temporale. Verranno erogati corsi su cyber security, machine learning, sistemi operativi, real time computing e progettazione di sistemi embedded ad alte prestazioni. Inoltre verranno fornite competenze trasversali molto importanti come la gestione della proprietà intellettuale, aspetti legali dei cyber physical systems e gestione dell'innovazione. Avremo infine piacere di avere in programma interventi da quattro aziende, due grandi aziende e due piccole e medio imprese che racconteranno la loro esperienza industriale nello sviluppare tecnologie e software per cyber physical systems. La Seasonal School avrà luogo dal 13 al 17 settembre. La deadline per le iscrizioni è fissata al 22 di agosto. Se appartieni ad una delle università convenzionate avrai diritto a un 10% di sconto sulla fee di iscrizione. I tre migliori studenti riceveranno una premialità di 450 euro grazie alle fondazioni EY e Il Talento all'opera. Non perdere questa grande opportunità.